Buongiorno, ben ritrovati e benvenuti alla conferenza stampa di Mr. Zauri in vista di Crotone Catania. Iniziamo pure con le domande, parola a Livadoti per la provincia KPR. Buongiorno Mr., buon anno, ci vediamo col nuovo anno, sperando che sia un anno un po' diverso per tante cose rispetto a quello precedente. E appunto parlando di cose diverse facciamo riferimento a quello che il Crotone ha collezionato in termini di risultati nel girone d'andate alle tue uscite. Ha pagato un po' d'azio ad alcuni risultati, l'hanno penalizzato, due sconfitte, tre parecci. Adesso inizia il girone di ritorno, che il Crotone è costretto a dover recuperare quanto non ha fatto in parte il passato girone. Il calciomercato è aperto, però ancora di novità è presto per annunciarle. Il Crotone come si dovrà ripresentare con un nuovo girone di ritorno per cercare di recuperare, come ho detto prima, i punti persi in precedenza? Tutte le squadre che ambiranno a cercare di arrivare primi o stare tra le prime sicuramente hanno sempre meno margine d'errore perché nel giorno di ritorno le partite andranno a scemare e quindi ci sarà meno margine. Quindi un campionato dove nonostante la rivestà abbia fatto qualcosa in più un po' di tutte, per il resto è un campionato molto equilibrato dove eventualmente tutte le squadre hanno trovato delle difficoltà, comprese noi. Stavamo trovando nel finale di campionato del giurale d'andata chiaramente dell'annata una certa continuità che ci ha permesso di credere in noi stessi soprattutto, di avvicinarci alle prime e poi è arrivata la sconfitta con l'Avellino che comunque ci rifà pensare che sarà un campionato molto difficile, sarà molto equilibrato e quindi noi vorremmo sbagliare il meno possibile. È chiaro che partiamo già da dopodomani dove arriva il Catania, squadra comunque strablasonata che è ancora dietro a noi ma che ancora ambisce ad arrivare tra le prime, la società nel percato e per come si muove e per l'allenatore che ha preso, dimostra di che forza vuole fare questo finale di campionato, questo giurale di ritorno. 19 partite sono ancora tantissime secondo me, io ho parlato della squadra l'altro giorno, è ancora un campionato, la storia dei campionati dice che tra il giurale d'andata e il giurale di ritorno di solito il calcio giocato è tutto completamente diverso proprio perché c'è meno margine di errore e quindi noi vogliamo crescere sotto tutti i punti di vista, vogliamo avere più cura del dettaglio, vogliamo regalare meno gol agli avversari, vogliamo essere più cinici sotto la porta, questo è l'obiettivo un po' di tutte le squadre e noi faremo di tutto durante gli allenamenti per migliorare tutto questo. Mancherà di sicuro Tomminello perché è squalificato, ci troverà di fronte avversari che lei, Chirico, lo ha avuto già alle sue dipendenze nel passato campionato e nel Catania ce ne sono altri quattro di X che a Crotone hanno lasciato una buona nomeia, diciamo, Mazzotta, Di Carmene, Curado, i dieci punti sono tanti e contro un Catania che come ha detto lei è forte e vuole riprendere, ecco infatti a Benevento l'ha dimostrato con una vittoria molto ampia, è un Crotone che dovrà cambiare anche atteggiamento tattico? Beh sicuramente dall'altra parte voi li conoscete bene, sono passati e ci sono giocatori che anche nel Crotone stesso hanno fatto delle ottime annate, parliamo tutta gente di esperienza, di qualità tecnica, la maggior parte hanno fatto anche categorie superiori qui a Crotone quindi è chiaro che stiamo parlando di una squadra blasonata e importante, noi dobbiamo fare le nostre cose fatte bene, secondo me abbiamo fatto una buona partita anche qua a Lavellino ma abbiamo commesso degli errori che Lavellino ci ha punito, quando si parla di partite del genere dove dentro la partita ci sono tanti giocatori di qualità e il margine d'errore si deve minimizzare a minimi termini proprio perché la capacità e le qualità del giocatore può risolvere la partita quindi mi aspetto una partita difficile ma cercheremo assolutamente di fare la partita nostra perché abbiamo voglia di riprenderci quella continuità che avevamo trovato dopo la sconfitta di Lavellino è vero che c'è stata la sosta di Natale ma dobbiamo essere bravi a come se la sconfitta, l'ultima sconfitta fosse stata un paio di giorni fa quindi ancora che brucia dentro di noi e quindi presentarci sul campo con la massima determinazione come sta la squadra? Rientro dalla sosta come sta sia fisicamente e anche se ha voglia di rivalza rispetto all'ultima sconfitta? Questa è la prima domanda, poi la seconda la faccio direttamente su quello che è il mercato, su che cosa si sta lavorando perché ho visto che soprattutto prima delle uscite si sta pensando quindi penso che sarà un mese molto lungo in questo senso Sì, il mercato di gennaio ci insegna che c'è tanta volontà in tutte le squadre di spostare qualche cosa poi come in tutte le sessioni di mercato si arriva sempre un po' agli ultimi giorni e quindi ci saranno altre 3-4 partite durante il mercato e quindi non sarà semplice quindi il mio compito è quello dei ragazzi e quello di concentrarci sugli allenamenti e sulle partite e adesso siamo concentrati su questo e chiaramente noi siamo una rosa ancora di 24 giocatori di movimento quindi è chiaro che qualche giocatore è stato poco utilizzato e mi sembra giusto nell'ordine delle idee che comunque qualche ragazzo abbia la possibilità di trovare un po' più continuità non penso che serva nel giugno di ritorno una rosa molto ampia perché le partite adesso sono chiaramente meno e quindi mi piacerebbe avere una rosa giusta in modo che tutti i giocatori si sentano coinvolti in quello che sarà questo ancora lungo rush finale quindi il mercato sarà orientato un po' su questo poi chiaramente vorremmo puntellare tutti i reparti con qualcosa se è fattibile se è possibile a seconda delle nostre esigenze e quindi quello è l'occhio sul mercato ma l'occhio è assolutamente sul campo perché insomma il giocatore che potrà arrivare diventerà importante se la nostra classifica diventerà importante e quindi la nostra classifica deve diventare sempre più importante che tramite le partite oggi abbiamo di fronte il Catania quindi non c'è partita migliore dopo le feste perché chiaramente la sosta si è vero che è una sosta però insomma sono appena sette giorni quindi non è una sosta molto lunga i giocatori hanno poi avuto in questi sette giorni hanno fatto quattro allenamenti a casa quindi è stata una sosta per modo di dire a livello fisico quindi la squadra è rientrata ci possono essere sempre lo dico sempre per esperienza un po' di imprevedibilità sempre insomma quando un po' si volta pagina e si riprende anche se la sosta è breve però comunque è una mini sospensione anche mentale della concentrazione sul campionato quindi ci possono essere sempre delle sorprese quindi noi dobbiamo essere bravi noi dello staff abbiamo provato a mantenere subito alta la concentrazione a capire che chiaramente la partita di domenica è importantissima e questo ci aiuta il fatto che comunque arriva una squadra già blasonata e quindi la partita si presenta da sola insomma è una partita da vincere gli infortunati sono i soliti Leo e Bove che ancora sono nella fase di guarigione ma hanno ancora bisogno di un po' di tempo Derrico insomma lo conosciamo e rispetto all'ultimo partito con Lavellino Gigliotti era in panchina ma veniva da allenamenti ancora fatti un po' saltueremente invece ormai sarà dentro come sarà dentro Vitale completamente dentro il gruppo quindi avranno ancora bisogno di tempo per trovare la massima condizione però hanno risolto assolutamente i loro problemi fisici se fanno parte del gruppo al 100% Buongiorno mister, Francesco Pitingolo CN24 da quello che ha detto lei prima mister è vero si affronta una diretta concorrente si affronta un Catania che probabilmente vorrà guadagnare terreno sul Crotone come il Crotone vorrà guadagnare terreno sulla capolista Juve Stabia ma dovremmo aspettarci in questo girone, mese di mercato uno spoltimento della rosa per puntellare magari alcuni reparti? Sì, beh penso che se qualche ragazzo andrà via è perché penso che intanto sono tutti ragazzi col contratto del Crotone quindi anche il ragazzo che andrà a giocare in prestito qualche mese è per il bene del Crotone perché comunque si valorizza un giocatore giocando e se qui questi ragazzi hanno trovato poco spazio è giusto per me puntellare la rosa perché come ho detto prima un conto se hai 38 partite di fronte allora vedi cosa succede quando ne cominci ad avere 19 adesso la settimana prossima già 18 tra 10 giugno e 16 quindi sono sempre meno per me non c'è bisogno di avere 25 giocatori a disposizione è meglio anche qualche giocatore in meno dove si sentono tutti coinvolti dove in qualche volta in esigenze particolari qualcuno può cambiare anche il ruolo e quindi questa è un po' la scelta che stiamo facendo adesso però ancora tutto molto presto perché il mercato di gennaio è veramente complicato perché tutte le squadre ragionano metto dentro se poi qualcuno mi esce quindi non è mai semplice fare operazioni però l'obiettivo è quello di fare una rosa giusta per queste ultime 19 partite arriva il Catania degli ex come diceva prima il collega uno fra tutti Chiricò come ha preparato la partita? come pensa di arginare quella verva offensiva che è propria della squadra siciliana? hanno qualità davanti dovrebbe rientrare anche Di Carmine che è stato assente nelle ultime partite i nomi si presentano da soli l'allenatore è un allenatore che ha vinto i campionati di C ha fatto il campionato di Serie B quindi si stanno costruendo col suo arrivo una nuova fisionomia se la stanno costruendo vengono da questo grandissimo risultato come ci siamo detti prima a Benevento e poi c'è stata subito la sosta quindi noi sappiamo che è una partita molto difficile però sappiamo anche che verranno giocati tre punti molto molto importanti per noi e nello stesso modo per loro perché chiaramente è loro che stanno sotto se sono importanti per noi figuriamoci per loro che vogliono riaggranciare le prime posizioni però la classifica è molto corta Juve e Stabia a parte e noi vogliamo stare tra quelle quindi è chiaro che i tre punti che ci giocheremo dopo domani sono importantissimi Mr. Buonasera Maria Rosario De Pietro e Retti Calabria io vorrei tornare un attimo su questa pausa che c'è stata noi abbiamo chiuso il girone di andata con una sconfitta poi lei ha allenato la squadra un altro paio di giorni la squadra si è fermata anche se si è allenata a casa secondo lei la scoria qualche scoria della sconfitta più questa pausa che come parlava poc'anzi e soprattutto mentale anziché fisica potrebbe avere diciamo un peso su questa ripresa domenica con il Catania? è difficile dirlo perché non si sa mai vieni da una sconfitta e speri di aver mantenuto la rabbia per la sconfitta e speri di averla mantenuta oppure dopo che perdi vorresti giocare il giorno dopo perché la rabbia ce l'hai dentro lo stomaco ancora e vorresti esprimerla poi sul campo vieni da una vittoria e forse hai paura perché la squadra si sia rilassata un po' troppo insomma dipende come vedi il bicchiere mezzo pieno fa parte del nostro campionato tutte le squadre affrontano questa sosta l'abbiamo affrontata così ci siamo voluti allenare noi fino al 24 abbiamo ripreso l'1 e siamo arrivati qua all'1 ci siamo allenati il 2 mattina quindi abbiamo preparato la settimana normalissima come di campionato perché i giorni sono pochi la testa fa la differenza e il fatto di dire che domenica viene il Catania da noi una delle squadre più forti che c'è più blasonate composta da tanti giocatori importanti e subito riaccende lo stimolo di voler dimenticare Avellino di voler riprendere la corsa che prima di Avellino la squadra aveva intrapreso con consapevolezza dei propri mezzi sapendo che è difficile ma soprattutto da ora in poi si costruisce la classifica vera insomma c'è sempre meno margine quindi ci siamo parlati l'altro giorno abbiamo fatto un po' di slide su quello che è stato prima e quello che è stato dopo su quello che sarà ci siamo posti degli obiettivi personali e di squadra e quindi lotteremo sul campo dando il massimo di noi stessi per raggiungere quegli obiettivi che come gruppo ci siamo prefissati lei ha detto che rientra Vitale è già rientrato Vitale al 100% per cui diciamo si dovrà adattare a questo nuovo modulo Vitale immagino come pedina fondamentale visto che lei ci ha creduto molto e il ragazzo soprattutto prima di infortunarsi aveva dimostrato effettivamente di aver fatto un passo in avanti lei crede che il ragazzo Vitale diciamo all'interno di questo modulo e quindi togliendo Dursi riportando lui la squadra l'assetto possa cambiare oppure per lei non cambia niente mi fai la formazione hai già fatto le sostituzioni no Vitale era già no Vitale era già rientrato in questo si è fatto male che noi avevamo già cambiato e quindi stava facendo bene ma lui non ha usufruito del modulo lui ha usufruito che ha fatto un salto mentale personale secondo me è molto più concentrato a quello che è il suo obiettivo personale di squadra è molto concentrato sull'allenamento è molto concentrato sulle partite e il risultato di quelle partite delle ultime sue partite era sotto gli occhi di tutti poi è successo l'infortunio quindi ha perso quasi due mesi e non sono pochi durante una stagione considerando anche che la sua fisicità insomma non è abbastanza pesante quindi ci vuole un po' più di tempo per ritrovare quella brillantezza però l'infortunio alle spalle sono convinto che con quella mentalità possa fare anche più ruoli possa essere determinante in tutte e due le fasi e quindi noi lo aspettiamo come se fosse adesso stiamo parlando di gennaio come se fosse un nuovo acquisto perché lui sapete come la penso da quando sono arrivato qua l'anno scorso lui probabilmente ha fatto quasi tutte le partite quindi lo ritengo un giocatore importante ma è un giocatore importante se come nelle ultime partite approccia gli allenamenti e le partite con la mentalità recente grazie Romano Megapress lei lo ha anche ripetito altre volte a una squadra con una marcata identità offensiva ha dei buoni centrocampisti anche che ragionano che sanno fare delle buone geometrie perché non inchiodare quattro difensori in linea col solo compito di difendere perché probabilmente dopo scelmerebbe anche la fase offensiva perché bisogna attaccare con più uomini possibile e quindi riusciamo a fare gol in quasi tutte le partite perché abbiamo fatto gol in quasi tutte le partite grazie all'idea complessiva è come quando prendiamo gol non è mai colpa solo dei difensori poi possiamo prendere il classico gol su una palla inattiva ma in generale è l'aspetto difensivo di una squadra che ci permette di essere solidi ho letto un articolo che dice prima di Taranto e dopo Taranto è così ma dopo Taranto la squadra ha subito dieci gol su tante partite tre l'abbiamo subito col Messina quindi vuol dire che in tutte le altre sono stati subiti sette gol quindi non mi va di dire che oggi i discorsi che ci facevamo a inizio stagione sono attuali oggi la squadra ha ritrovato un suo equilibrio purtroppo è arrivata la sconfitta di Avellino in uno scontro diretto e ci ha fatto male però la squadra ha giocato ha giocato con coraggio è stato annullato un gol regolare avremmo potuto pareggiarla quindi questi sono episodi che fanno comunque la differenza durante il campionato e la squadra è vive e ha trovato un suo equilibrio dobbiamo migliorarla sempre di più certo però oggi penso che la squadra ragioni e questo mi piace qualsiasi cosa succeda che la squadra anche se va sotto è sempre stata convinta di poter recuperare la partita era in grado di recuperarla e io questo penso che sia uno dei pregi migliori che una squadra possa avere penso che bloccare qualche giocatore in fase difensiva vorrebbe attaccare con meno uomini e quindi sicuramente poi la possibilità di fare gol diminuirebbe quindi dovremmo trovare l'equilibrio tra attaccare bene in tanti e difendere bene in tanti questo vuol dire diventare una squadra forte Salve Ministro Gianfranco Turino se non sbaglio non vorrei ricordare male nell'articolo che lei stava citando manca però un dato giornalista di Sant'Eto se prendiamo in considerazione le prime sette squadre sei esclusi a Clotone quindi da Juve Stabia a Benevento il Clotone in queste sei partite ha fatto una sola vittoria due pareggi e tre sconfitte il resto dei punti è stato fatto con le dodici squadre mancanti è un dato quasi impietoso se faccio il paragone nei confronti detti con le prime con le ultime anche se faccio il confronto tra le prestazioni perché le partite migliori sono state fatte con queste sei squadre e nonostante abbiamo però raccolto meno punti è questo il salto di qualità che manca a questo Clotone perché con una partita vinta si erano secondi non si ragionava da settimi si ragionava a secondi manca questo no beh come quando all'inizio campionato ci dicevamo siamo dodicesimi tredicesimi adesso essere quarti quinti sesti cioè quando si parla di una classifica dove 35 34 33 32 31 30 cioè a 19 partite della fine darci una posizione di classifica è veramente impossibile c'è veramente tutto da giocare i numeri sono questi ma se penso alle sei partite se penso alla partita qua recentemente con la Juve Stabia se pensiamo a Caserta abbiamo buttato via dopo l'espulsione loro per me una vittoria contro una squadra che nelle ultime 10-11 partite se non sbaglio non ha mai perso e quindi sono state fatte partite dove è chiaro che non è arrivata la vittoria però è arrivata la consipovolezza di potercela giocare con tutti poi parliamo di Benevento Avellino di queste squadre qui Taranto quindi parliamo già di un po' di mesi fa tutte partite abbastanza anche rocambolesche dove la squadra ha provato a vincerle e ha provato a giocarle non sono arrivati i risultati quindi gli do il giusto peso al fatto che non siano arrivati i punti con le prime però io penso che la squadra oggi abbia la consipovolezza li vedo come si allenano li vedo quando ci confrontiamo nella nostra sala che c'è la consipovolezza e le potenzialità di poter giocarci tutte le partite per vincere quindi a prescindere se abbiamo vinto con quella squadra o abbiamo pareggiato con un'altra io penso che a fine del giorno d'andata anche tutte le altre squadre pensano che rispetto all'inizio mettano il crotone tra quelle che potrebbe arrivare tra le prime ma quello aspetta a noi e quindi già da dopo domani noi vogliamo ripartire subito dando una sensazione forte un segnale forte al campionato ma soprattutto a noi stessi la classifica è non molto corta e quindi siamo tutti lì ad aspettare che la Juve Stabia possa calare un pochino perché stiamo parlando della Juve Stabia ma come prima però a me piace parlare di noi stessi noi dobbiamo pensare a fare i nostri punti e poi alla fine sicuramente il campionato di da chi sarà stato più forte l'ultima domanda per me chiaramente so che qua mi dribbla come faceva il campo io voglio ritorno un attimo sul mercato la lettera di Babbo Natale di mister Zauli non mi dirà i nomi ma ha chiesto tre o quattro rinforzi e poi se sono uno per reparto o in difesa magari due sono delle parti dove siamo abbastanza buoni e a me piace parlare con la società e dire è chiaro che qualcosa ci serve perché a volte a gennaio può cambiare noi purtroppo siamo arrivati a fare queste partite importanti alla fine comunque con la fase difensiva cioè siamo arrivati a fare l'Avellino comunque con Crialese che grazie alla sua intelligenza alla sua dutilità è riuscito a fare un ruolo dove l'ha fatto benissimo le partite prima poi però non possiamo pensare di fare un campionato con un ragazzo fuori ruolo l'infortunio di Leo ci dava soluzioni perché lui è tra difensore centrale e terzino mentre Federico Papini fa molto bene il difensore centrale quindi per caratteristiche siamo arrivati negli ultimi giorni per caratteristiche un po' corti e quindi l'infortunio di Gigliotti ci aveva ulteriormente complicato la situazione nell'ultimo nell'ultimo mese diciamo così negli ultimi 20 giorni del mese di dicembre quindi chiaramente lì vogliamo essere più coperti vogliamo che questo non risucceda e quindi stiamo valutando qualche cosa sul reparto difensivo probabilmente valuteremo qualcosa sul reparto di centrocampo per caratteristiche cerchiamo di completarlo solo per quello sul reparto offensivo a meno che non si sposti qualcosa perché il mercato di gennaio è sempre imprevedibile io penso che insomma abbiano avuto tutti la propria chance abbiano avuto tutti anche una reazione Butai è stato diciamo sfortunato negli episodi chiave ma quando secondo me è un attaccante gli capitano le occasioni da gol vuol dire che prima o poi farà gol e a lui sono capitate quindi qui parliamo del nostro terzo terzo attaccante ma terzo non in ordine perché io penso che una squadra che giochi adesso con due attaccanti per me i tre attaccanti sono tre titolari che si giocano le 19 partite a essere decisivi e quindi è un po' questo andrà via qualche ragazzo che ha giocato poco che ha bisogno di giocare chi viene da gravi infortuni chi ha giocato veramente poco penso che sia giusto che vada a giocare e farsi l'esperienza in altri posti quindi non sono bocciature ma sono solo percorsi di crescita per tutti Francesco Sibilla video Calabria ha detto prima c'è sempre grande differenza di prestazioni tra il girone d'andata e il girone di ritorno se traduco bene significa che si fanno più calcoli e si è più spensierati questo può penalizzare una squadra come la nostra Vutai non dovrebbe essere ce n'è bisogno da attaccante ad attaccante come si fa a motivarlo perché per lui quella di domenica prossima probabilmente è una prova quasi definitiva una chance che insomma fallita la quale poi avrebbe anche poche possibilità di replica no no ma lui è tra i nostri tre attaccanti l'ultima volta che ha giocato il titolare ha fatto un gol importantissimo a Brindisi quindi dopo è entrato quando è entrato gli sono capitate due palle importanti contro l'Avellino palle pesanti ma succedono succedono spesso agli attaccanti e ne ho visti tantissimi volte sbagliare però l'idea che gli capita in occasione il ragazzo che dentro l'area si fa rispettare è sempre presente la palla arriva dove lui quindi quella io la rivedo come una qualità quindi sicuramente se sarà della partita dopo domani non sarà sicuramente un o dentro o fuori per lui assolutamente lui è un giocatore nostro è un giocatore che deve pensare di fare bene quindi è una partita importante la squalifica di Tuminello probabilmente dà più chance un po' ad altri giocatori e quindi altri giocatori si staranno giocando il posto di quello che per adesso è di Marco Tuminello che se l'è costruito sul campo e quindi non vedo non mi piace ragionare che possa essere un'ultima spiaggia per nessuno insomma il mercato di gennaio è sempre un'opportunità sia per le squadre che per i giocatori ma noi oggi siamo concentrati a cercare di fare un'ottima partita col Catani e cercare di batterli questa è la nostra è la nostra priorità quindi cercheremo di fare le cose fatte bene non penso che sia che sia questa per quanto riguarda il giornale di ritorno lo vedo più difficile perché di solito quando le squadre si devono salvare o devi vincere il campionato la palla comincia a scottare un po' di più e quindi si comincia ad avere meno spregiudicatezza le partite possono diventare più maschie anche più brutte tecnicamente perché la posta in palio diventa sempre più alta e quindi è normale che possa essere questo aggiungo alcune domande che sono arrivate mister Gabriele Pio stadio radio nel girone di andata le sconfitte sono arrivate nel primo mese e mezzo in vista dell'inizio del girone di ritorno che approccio si aspetta da parte della squadra no beh ma noi questo non è un secondo campionato noi cerchiamo di continuare quello che abbiamo fatto noi abbiamo fatto un percorso dove siamo passati d'estate dove comunque abbiamo vissuto un'estate difficile perché comunque abbiamo passato il ritiro alla sila dove tanti giocatori non si sapeva bene come ancora costruire la rosa la squadra è cresciuta settimana dopo settimana anche grazie a qualche sconfitta come hanno avuto anche le altre è cresciuta e io mi aspetto che la squadra ricominci da dove ha finito non dico con la sconfitta di Avellino ma essere squadra e lo ha dimostrato in tutte le partite che ha fatto e nell'ultimo periodo soprattutto e quindi io mi aspetto e sarei meravigliato se non vedessi questo già da dopodomani quindi mi aspetto che si continui a essere squadra come si è dimostrato nell'ultimo paio di mesi a questa parte e appunto inizia la domenica contro il Catania il girone di ritorno quali saranno gli aspetti tattici e soprattutto quelli mentali che vanno migliorati rispetto al girone di andata gli aspetti tattici fai sempre fatica per me la tattica è tattica individuale quando un giocatore fa bene le proprie cose la squadra ne trova beneficio su quella della strategia della gara fai sempre un po' fatica perché non hai mai le certezze di come la squadra avversaria ti verrà da affrontare quindi ci vuole massima d'utilità a capire quali sono le difficoltà della partita e sono convinto che le capacità e le qualità dei nostri giocatori siano in grado di superire a questo di leggere la partita e quindi noi dovremmo migliorare il nostro aspetto di tattica individuale che secondo me è quello che fa la differenza nelle squadre Procolo Guida per Crotone Informe e la Cineus 24 terza sfida agli etnei quanto cambia rispetto alla prima e alla seconda gara che non ha mai perso con due allenatori diversi? Parliamo ormai veramente di quattro mesi fa quindi nel calcio quattro mesi è storia assoluta noi abbiamo fatto là una grandissima vittoria perché vincere a Catania la prima dove c'era un grandissimo entusiasmo siamo andati lì con la prima proprio della Lega Pro con l'inno nazionale all'inizio era nell'inizio 20.000 persone allo stadio quindi è stata una partita giocata da squadra e lì ci aveva fatto capire che potenzialmente questa squadra ha dei valori oltre che tecnici anche di spessore di lotta che poi ha ridimostrato e quindi però è storia insomma è cambiato l'allenatore sono cambiati tanti giocatori le cose cambiano sono cambiati loro siamo cambiati noi quindi a oggi ci riaffrontiamo due squadre che ritengo due buone squadre che si affronteranno per cercare di ottenere una grandissima vittoria rispetto pure infatti alla seconda gara chiedeva proprio sì sulla Coppa Italia è stata una bellissima partita dove soprattutto noi hanno giocato loro meno ma noi abbiamo schierato tanti ragazzi che fino a quel momento hanno giocato poco hanno giocato con coraggio con qualità abbiamo preso gol a due minuti dalla fine se no avremmo vinto a Catania in Coppa Italia poi siamo andati oltre fine ai rigori e lì siamo sfortunatamente usciti però insomma sono state due partite fatte dai con coraggio noi nelle due partite abbiamo messo in campo tantissimi i giocatori diversi hanno sentito il risposto bene però è storia è storia non penso che le due partite si abbiano insegnato qualcosa per giocare domani per noi ogni partita si reaggeva le motivazioni hanno reaggerate e vanno messi in campo a chiudere sempre Procolo al netto del recupero di Vitale quanto cambierà se a Crotone dal mercato non dovessero arrivare centimetri importanti? No io penso che va bene Vitale ha la sua fisicità ha una fisicità importante per la Lega Pro è un ragazzo che sta crescendo quest'anno come ci siamo detti prima abbiamo visto soprattutto nella prima parte che quella poteva essere una nostra lacuna cercheremo nel mese di gennaio di migliorarlo perché un impatto sul campo anche di centimetri può essere importante durante le partite quindi cerchiamo di metterne nella rosa anche questo